domenico minniti passione legno e montagna l'artigiano ha ricevuto la scorsa fiera di sant'orso di aosta la menzione per il premio piervietti per il suo basso rilievo che fotografa nel legno pernici e galli forcelli animali protetti della valle d'aosta tema del 2023 del premio siccome sono appassionato sempre in montagna quindi per gli animali poi non solo gli osa scolpiti ma anche colorati dal 2000 minniti partecipa alla fiera come scultore dopo gli anni dedicati all'intaglio la sua passione per l'arte arriva da lontano dalla scuola d'arte appunto che ha frequentato e si è voluta a tal punto che oggi gli basta vedere un pezzo di legno per immaginarsi un soggetto da scolpire c'è un riccio qui ci sarà la testa come cura poi gnomi faccio con i nodi dei castagni per lui l'artigianato è un momento tutto per sé non hai pensieri il pensiero è quello di come fare l'opera e l'intera produzione ha come unico scopo la fiera di sant'orso il sant'orso è una festa e ritrovarsi con gli amici e ritrovarsi tra con gli altri artigiani e confrontarsi anche un po il mio è più bello il tuo più bello e in attesa di vedere le sue nuove opere ecco dove trovarlo il 30 e 31 gennaio d'aosta siamo via del sales di fronte alla cattedrale grazie a tutti grazie grazie grazie